E allora buonasera a tutti SportMDF Channel, quarta giornata Coppa Campione da Cerquetta, questa sera poc'anzi termina, è terminata Arsenal Stock City, lo Stock City porta a casa i tre punti, 5-1 il passivo e qui abbiamo i due porteroni Giorgio e il grande Matteo Mastroiani, però Giorgio questa sera dello Stock City ha parato un rigore, primo rigore parato in questo torneo, Giorgio come è andato? È andato, ho scelto un angolo e l'ho indovinato, probabilmente l'avversario non mi ha guardato e quindi ho intuito dove andava il pallone, solo quello, rigore, fortuna ci vuole, no, non lo prendi mai. Matteo pure qualche intervento risolutivo, però questa sera sei andato in handicap dall'inizio. La doppia inferiorità numerica all'inizio, che poi è rimasta comunque di una persona per tutta la partita, faccio una piccola parentesi extra calcistica, direi che questa partita a armi vari sarebbe andata sicuramente diversamente, ce la saremmo giocata come abbiamo già fatto al girone con due bei risultati anche molto stretti, nonostante sia calciotto, però vabbè, come avevo già detto Stock è bella squadra, noi stasera dobbiamo un attimino farci un mea culpa dal punto di vista organizzativo, tutto qua. Siamo una bella squadra, è un peccato regalare le partite, venire qui con l'uomo meno, doppio uomo meno, è fastidio. Certo, certo. Però vabbè, loro si confermano una bella squadra che già amano. Quindi lo Stock City vola, va a 9 punti, se non erro, affiancagli al Tottenham, e se non erro la prossima è lo Stock City con la Stonvilla, che sta un po' indietro, però tutti lì pronti per la quinta giornata, vi aspettiamo, buonanotte a tutti e solo... Passione! Passione!